Vincenzo, questo come si dice in teatro, nel cinema, a volte un oggetto, basta un oggetto, questo è il bassone che richiama. Iniziamo da questo, puoi iniziare anche da un elemento simbolico, molto rappresentante. Che cosa rappresenta? È un appoggio, ma non troppo appoggio, permette la postura cepliniana, charlottiana. All'epoca il bastone era anche sinonimo di aristocrazia, di eleganza, quindi charlotte cerca di assurgersi a ruolo di borghese, aristocratica. Infatti gioca su queste contraddizioni, cioè il fatto di apportare il title bombetta, però di essere un vagabondo e quindi da una parte ha le physique du rôle del londinese e dall'altra però il vestito riguaccido del crochet. Però mi piace sempre mantenere la sua eleganza, il suo stile, anche nella postura. Penso che sia un messaggio importante, che la maschera, il vestito, la copertura, alla fine non riesce a nascondere la dimensità del cuore. È il lavoro che tu hai saputo fare interpretando il personaggio di Charlotte perché il personaggio, la maschera ha questa doppia valenza e tu gli hai dato, anche come messaggio per l'attualità, per il presente, anche se a volte viviamo situazioni di difficoltà, di dolore, anche difficoltà economiche, eccetera, però non rinunciamo a mantenere la nostra dignità, a salvaguardare il nostro dolore. Ma poter restituire alle persone, all'umanità intorno, al prossimo, sempre quel sorriso, quella positività. Charlotte subiva di tutto. È la ricchezza più grande. Charlotte subiva di tutto, ma manteneva la sua dignità. Non accettava che la sua dignità fosse gattestata. E quindi questo personaggio, nell'altro appunto l'attore, l'uomo e la maschera, la maschera è quello che ha messo davanti forse un impegno maggiore, cioè di fronte a quello che è un mostro sacro della cinematografia mondiale di tutti i tempi. Per noi è stata un'ispirazione proprio per questo, perché la maschera significa anche ritrovare alcuni elementi di pirandello, che ricorda il gioco delle maschere e la maschera che si fa personaggio, che ha una sua profondità. Le morti dell'essere umano. Poi insomma, volevo ricordare per Paolo che parteciperemo alla festa del cinema Natural Classica. Sorpresa! Con lo splendido backstage del nostro Giovanni Pirri è uscito uno splendido, bellissimo cortometraggio e stiamo incrociando le dita perché sarebbe bello vincere. Ed è anche questa la bellezza del nostro lavoro, i vari passaggi dal teatro, l'immagine, la fotografia, la ricchezza delle possibilità. Quello che mi ha subito è proprio la risposta che già abbiamo incontrato sulla rete, su internet. Il successo è che ha avuto questo passaggio graduale, perché noi abbiamo iniziato alla fine di gennaio a mandare delle foto, delle frasi, delle cose che annunciavano lo sviluppo walk in progress di questo. E c'è stato un crescere sempre maggiore di interesse, di partecipazione, di critiche, di commenti su Facebook, di like, eccetera, che secondo me hanno dato sempre forza a qualcosa che ha preso forma a strada facendo. Sì, anche perché ormai il mondo interattivo è sempre più forte, più presente. Addirittura c'è chi sostiene che presto sostituirà la televisione. Infatti c'è tutta una filosofia che... Adesso siamo su Libri.tv, Libri.tv è una web tv, quindi già noi ci affidiamo anche a questo mezzo. Ma l'idea è bello perché stai circolando, a me mi è capitato di incontrare anche persone che mi hanno detto, ma lo sai, ho visto quella tua cosa, eccetera, adesso ci scriverò un articolo. Un'altra da Frosinone, quotidiano alla provincia, mi ha detto, guarda che abbiamo fatto uscire una pagina intera dedicata a questa volta. Io penso, Paolo, che la scintilla che sta creando interesse verso questo progetto voluto e pensato da te sta proprio nel modo di impostare le cose. Spesso la figura di Chaplin, la figura di Charlot, si è prestata alle pubblicità, cioè è stato sfruttato, utilizzato, o imitazioni caricaturali, ma qui si è partiti da dentro. Cioè il perché, il pensiero, è stato un atto d'amore nei confronti di questo grande personaggio. Tra l'altro, appunto, ricordiamo, quest'anno, 2017, il quarantennale della scomparsa perché Chaplin è morto il 25 dicembre 1977 e quindi mi sembrava doveroso per chi fa il nostro bestiere trovare modo di romaggiarlo. Poi liberamente ispirato, sempre con grande umiltà. Sempre con grande umiltà. E di trovare degli elementi che ci potessero, diciamo, fare in modo di istituire a lui le tante cose, almeno in parte piccolo, le tante cose che Chaplin ci ha donato e allo stesso tempo trasferire agli altri l'attualità di questo messaggio, di questa... e quindi anche le varie forme d'arte, la fotografia, il teatro, il cinema... Il trucco, il trucco, la trasformazione, il costume... Tutte le varie arti che in sinergia collaborano... Diventa un gioco all'unisono. Io vorrei ricordare, se mi permetti, Pierpaolo, di un pensiero a un grande agente che era Giuseppe Perrone che per primo, ora ripensandoci, anni fa, lui è scomparso nel 2006 e ricordo che Giuseppe Perrone, papà artistico di tanti personaggi che ha avuto lo spettacolo, ha avuto la fortuna di incontrare e di essere seguito da lui. Giuseppe Perrone era stato ufficio stampa di Charlie Chaplin perché iniziò la sua carriera come ufficio stampa della United Artists, la grande casa di produzione internazionale fondata da Charlie Chaplin. e lui mi diceva, ma lo sai che tu assomigli a Charlie? Adesso mi sono detto, e vedi, l'ultima volta che appunto mi fu detta questa cosa e poi sei arrivato te, allora, forse da lassù, Peppino, come noi tutti simpaticamente, affettuosamente chiamavamo, ha voluto mandare il suo segno, allora dice, è arrivato il momento. Penso proprio di sì perché effettivamente poi l'accoglienza che abbiamo avuto su internet, su online è stata veramente bella, calorosa, che secondo me questo spirito che alleggiava in realtà veramente cercava in noi gli strumenti per dare vita a qualcosa che il respiro dell'aria fresca può dare a chi magari non trova l'ossigeno nella vita di tutti i giorni e si sente soffogare. E' poesia! Ma poesia, tu la mi sape ricordare. C'è sempre poesia in ogni scatto, in ogni espressione, in ogni suggestione, che poi sono suggestioni poetiche, il colore, anche il gioco che è stato fatto tra il bianco e nero, i giochi di garabiancino e magico, proprio sulle luci, il bianco e nero, i colori, quindi dare anche forma attraverso la luce e quindi la poesia. Adesso anche come regista tu hai notato quando abbiamo lavorato... E' molto presente lui, mi chiama comunque ora, notte e giorno, mi scrive e pensa guarda questo, guarda quello, ricordati quell'immagine, vatti a vedere quel film. E' quel giorno che un giorno ci siamo trovati in zona Borgopio per trovare, e siamo entrati in quel bar, ma questo lo dobbiamo ai nostri amici che ci stanno seguendo, dobbiamo raccontare che siamo entrati in un locale per parlarci un attimo e sullo schermo stavano proiettando il film... Le luci della città, le luci della città, di Chaplin, siamo entrati in quello... Sare, ma non sapevamo... E poi non è che andava in televisione in quel momento, era il proprietario che aveva deciso di mettere la passione, che aveva fatto una cosa che è stata totalmente casuale, noi l'abbiamo letto come segno. E questo per ritornare anche alla poesia e al lavoro che stiamo facendo, l'interpretazione del personaggio, che è un personaggio che trasmette poesia e va quindi anche conosciuto nel suo lato poetico e soprattutto per noi che cerchiamo di ispirarci a lui, trovare quella poesia per renderlo al meglio. Io penso che possiamo... Fatti italiani! Fatti di cultura! Fatti di cultura! Fatti di cultura! Fatti di cultura! Punto net! La vostra virtuale... E poi diteci che cosa ne pensate, no? Lanciamo l'invito nel mare del web! Esatto! Navidiamo da Borzelli! Pierpaolo Segneri, Vicerzo Brucerelli www.uten.inchesca.com www.acadion.inchesca.inche Grazie a tutti.